Doh, doh! So che non stai più utilizzando le armi che hai visto nell'intro di questo video Ma con le build che ti proporrò quest'oggi Ti posso garantire che tornerai ad utilizzarle E ti troverai davvero molto molto bene USP Swarm e il Puli Moth sono praticamente scomparsi dalle nostre lobby Ma cambiando qualche accessorio, quindi modificandone un pochino il setup Sono sicurissimo che tu che stai guardando questo video tornerai ad utilizzarle Sarai super contento Ti lascio con una partita solo V2 davvero molto molto bella Un gameplay molto frenetico con un sacco di bombe Fammi sapere con un like o un commentino come vi siete trovati con queste build Ed iscriviti al canale se ovviamente ti dovessero essere piaciute Grazie a tutti del supporto, ci becchiamo Vi lascio al video, buona visione, let's go! Ciao, anche Felix scrive ciao Ciao YouTube, questa è la partita da YouTube Stanno salutando perché sanno che finiranno YouTube Distrutti completamente dal Gianci Già lo sai, già lo sai, ok Oh Felix è morto eh Confermato Felix Vannaggia Felix Quanto cazzo piotta questo raga Quanto cazzo piuttosto Ok, oh cazzo ce ne sono altri Dai però che cazzo, sono sfigatissimo Ok Ehi ma guarda che schifo, non hanno ancora, cioè hanno 27 anni che c'è sto bug che non riesce ad uscire dall'acqua Cazzo di equipamento alleato Confermata, sappiamo dove sono gli altri Ok Ok Va bene, ok Raga sto tryhardando, scusate Ok, perfetto Purtroppo facendo così ovviamente butto giù abbastanza la lobby Però Questo me ne frega Sincero eh Perché sarà sarà Secondo me riusciamo comunque a farci un buon numero di kill se riusciamo appunto a tenere questo ritmo Problema è tenerlo il ritmo Allora, secondo me qua in zona deve esserci per forza qualcuno Ok, mi stanno sparando Il resto della squadra sulla mappa tattica Buona caccia Mio dio raga Per poco eh Ho fatto quella slideata così Wow Mi stavate giù è Mi stavate giù caccia il cazzo eh 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 Strunz Mamma mia Ma che è il premmino così bro Grazie mille per il supporto Adesso ti dedico la win bro Ti dedico questa win Se non mi confermano Anche se sono pretty sure che mi confermeranno raga Grazie mille davvero Welcome to the G fam Guarda lì ho Minchia che questi qua raga Sono due su cazzi Questi sono due su cazzi raga Si stanno succhiando le cazze Vicenda questi Questi sono due su caccia Vi state ciucciando le cazze Vicenda Vergognatevi Scostumati Si è conclusi Grazie in aggiornamento Sì 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 Posso capire se c'è qualcuno qua Ok, godo un sacco Devo stare attenti un attimino dietro perché potrebbe esserci ancora di masulio Di qualche succhia di cui abbiamo parlato prima appunto Poi gli altri comunque sono sopra quel tetto là Quindi ho tutto il tempo, ho tutto il tempo L'amico? Perché non mi ha pingato l'amico? Non mi ha dato team wipe Hanno ressato, doppio ress là, minchia Let's go, let's go Il pad della Durex Eh sì raga, allora Tengo il paddino destro con profilattico XXL E quel paddino sinistro invece quello extra small Per avere meno corsa, meno gioco E essere un po' più preciso insomma Non posso neanche pubblicare questa partita Perché ho dato del succhiacchia Letteralmente a tutta la lobby raga Tipo la partita che vedrete su Youtube sarà Ve la faccio sentire Ciao 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 Ciao